Ciao a tutti e buon anno! Benvenuti nel 2023 e benvenuti in questo video dei Magis of Lotus della rubrica Buyer Not, rubrica in cui noi vi consigliamo se determinate carte sono in un buon momento per essere comprate o meno. Le carte ce le chiedete voi tramite commento in un nostro qualsiasi video YouTube con la voce Buyer Not accanto al nome della carta. Più specifica aggiungete meglio è, quindi eventuale foilatura, edizione, condizioni eccetera eccetera. La prima carta ce la chiede Alberto che è un abbonato e ringraziamo molto ed è Seat of the Synod. Ce la chiede nello specifico Foil, Near Mint, Inglese e ovviamente Dimir Rodin. Allora, diamo un'occhiata al prezzo. Non è basso, cioè sono diciamo 30 euro, sì, per una comune foil, veramente non sono pochi. E vediamo un attimo le altre ristampe che ha ricevuto. Allora, ha ricevuto appunto una ultimamente, una molto bella, nella Guerra dei Fratelli, però non c'è la versione foil. E poi ha ricevuto, eccola qui, poi ha ricevuto una ristampa nel Secret Layer, attorno ai 20 euro il prezzo. A me sinceramente non fa impazzire. E basta. E poi scusate, ha ricevuto in realtà tante altre ristampe, vedete qua quindi nei Commander Deck, nei Duel Decks, però tutte in versioni non foil, quindi solo regular. Allora, a mio avviso Alberto, questo è un buy, nonostante il prezzo sia molto alto. Allora, adesso provo un attimo a, diciamo, a esplicare il mio punto di vista. Allora, Mirrodin è stata la prima espansione di un set, non base, ad avere il nuovo layout. Quindi, con Mirrodin, diciamo, è iniziata un'epoca, l'epoca appunto del nuovo layout. Quindi, a mio avviso, le carte, diciamo, iconiche che si giocano di questa espansione, hanno un valore di collezionismo molto alto. Io sinceramente preferirò sempre questa versione a quella del Secret Layer e anche a quella del layout, perché per me Mirrodin vuol dire nuovo layout. Ti do però un consiglio. Allora, qua ho filtrato tramite, ho messo Near Mint, ok? E il prezzo è, insomma, parte da, dipende quante copie vuoi, comunque tipo se vuoi il 3x parte da 40€ almeno, no? Se tu abbassi un po' l'asticella, ok? Io qua ho messo Good, vedrai come il prezzo scende. Trovi addirittura un 4x a 27€. Non è che ti sto consigliando di comprare la versione Good se vuoi Near Mint. Quello che ti consiglio è, tu, prova a contattare questi seller e chiedi se ti possono mandare una foto fronte e retro della carta. Perché spesso magari uno mette Ex, Good o anche Near Mint, ma in realtà la condizione non è proprio quella. E non è detto che sia peggiore rispetto a quella dichiarata. Può essere anche migliore, perché ognuno di noi ha parametri diversi. Quindi il mio consiglio è, contatta, se vuoi comprarla, i seller e chiedigli una foto fronte e retro. La seconda carta, e anche la terza in realtà, ce le chiede Kabarak. Allora, ed è Goldspan Dragon. E come investimento? Allora, non hai specificata la versione, quindi proverò un attimo a parlarti di tutte, ma in realtà è abbastanza uguale. Perché comunque il prezzo è simile. Che sia Jumpstart, che sia The List o che sia Caldame, il prezzo è uguale. Chiaramente la versione Extras costa un po' di più. Allora, qui, a mio avviso, siamo sul Not Buy. Perché? Allora, la carta si gioca solo ed esclusivamente in Commander. A mio avviso, però, un potenziale in Pioneer ce lo potrebbe avere. Adesso sì, non sto bene a parlarvi del mate e tutto, però in Pioneer comunque potrebbe essere una playable. E chissà che magari un giorno i draghi non saranno rivalutati da stampe che faranno. Quindi in Commander è giocabile. Però c'è un problema per l'investimento, che è questo. La ristampa nei Challenger Deck. Allora, è presente in 1x, in questo deck, che si trova su MKM a 24€, diciamo, e anche in quantità abbastanza elevate. Vedete? Quindi, in ognuno di questi deck c'è un Goldspan Dragon e non c'è solo il Goldspan Dragon di giocabile. Ci sono anche queste due terre che si giocano in Monogreen. Ci sono queste quattro terre che sono forti. Ci c'è Redger Class. E poi c'è Magda. Non vale niente, ma insomma, comunque ci sono anche altre carte giocabili. Chiaramente con il Goldspan Dragon è la carta, insomma, che vale di più di questo mazzo. C'è anche il Ranger Class. E niente, quindi a mio avviso questo è un not buy. L'ultima carta, e se la chiede sempre appunto, scusate, Kabarak, ed è The Great Ange. Carta fortissima, staples del Commander, giocabile anche in Pioneer. Si giocava in Pioneer, nella side, grazie a Karn, è da un po' che non la vedo, però rimane comunque giocabile. Allora, a mio avviso questo è un not buy, perché ha un prezzo altissimo. Cioè, 50€ è veramente tanto. Si gioca solo in 1x, quindi in Commander. 50€ sono veramente troppi. Tra l'altro, guardate qua, questi sono un po' i bug di Magic. La versione Foil vale tipo 5€ in più. Quindi se proprio vuoi comprare, secondo me vai sul Foil, perché ha molto più senso. Perché non consiglio comunque il buy di questa carta, oltre al prezzo, anche perché nel 2023, come potete vedere qua, si torna su Eldraine. Quindi chissà, magari potrebbe erserci una ristampa in una versione magari non legale in standard. E quindi, visto che comunque il prezzo è alto, la carta è molto giocata in Commander, la Wizard potrebbe ristamparla, perché comunque è una carta che dà appeal al prodotto. Bene, mi sono un po' dilungato, ma dai, il primo video del 2023, quindi siate buoni. Ci vediamo presto e buona giornata a tutti. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.